Non è possibile, non è possibile, non è possibile, manco oggi se vince, manco oggi Non sappiamo più fare una vittoria, neanche gestirla, se è in vantaggio di prendere quello come un pollo al 96esimo Hanno l'ultima occasione, pure De Rossi che si è fatto cacciare un altro, un altro idiota Un altro idiota insieme a quei salami, insieme a quei salami perché sono tutti 11 salami Non è possibile, io ve l'avevo detto nel pronostico, guardate che col Genova non è una gara sottovalutata Il Genova che aveva perso in casa col Verona, il Genova non te regala nulla Non te regala nulla, e tu lì striminzito a difenderlo 1-0 Io ragazzi inizio veramente a pensare che il problema non era proprio Mourinho Non era proprio Mourinho, De Rossi, Mourinho, dell'allenatore, fino a una certa Ma sono pure i calciatori Non è possibile che cambi col calciomercato che hai fatto quest'estate Io voglio sapere, non lo so, a fine anno venderemo mezza squadra Per i debiti, per i debiti Cioè tu quest'anno devi per forza andare in Champions ma non ce puoi andare Non ce puoi andare con tre punti in quattro partite Mando cazzo vai, mando vai, mando vai Cioè non te prendono manco a fare una competizione extraeuropea Ma neanche quella potresti fare Perché fai schifo, fai schifo Facciamo pena, facciamo pena Neanche io dico una domenica tranquillo No perché le partite mezzogiorno e trenta ragazzi sono micidiali Sono micidiali Quanto è che non vedevo più una partita mezzogiorno e trenta della Roma? Tantissimo, un anno forse, anche di più Primo gol di Tobic Ho festeggiato, finalmente si è sbloccato Tobic Niente, niente, niente Perché loro mi devono fare Incazzare Mi devono fare incazzare Così preferisco Guarda, preferivo perdere la 3 a 0 Sta partita Preferivo perdere la 3 a 0 che pareggiarla 1 a 1 Così In questa maniera In questa maniera Era meglio lo 0 a 0 contro il Cagliari Così ti fa solo incazzare Perché poi Nel primo tempo Vabbè Partita sterile Bloccata Entrambi le squadre Ma poi nel secondo tempo Si era vista una buona Roma Avevi pure creato Tobic pure che oltre al gol N'ha fatto veramente nulla Perché si è mangiato un gol Colossale Nel primo tempo Quello doveva essere gol Un pallone messo perfetto di balla Se lo divora E poi vabbè Poi giustamente nella fase finale Tu Te copri Alla Murigno Alla Murigno Difende l'1 a 0 Contro già Difende Stai a vincere Ma gioca Ma gioca C'hai i giocatori C'è l'AEA squadra Per giocare a pallone Non stai a giocare Con Con Giocatori De neopromosse Stai a gioco Con i giocatori Pagati 30-40 milioni C'hai giocatori Che prendono 3-4-5 milioni L'anno Ma non è possibile Eh ma è un gioco Col calcio Non è un gioco Ragazzi È un cavolo di lavoro Guadagnano i milioni E noi E noi che li guardiamo Che pagamo l'abbonamento Che andiamo Prendiamo il biglietto Chi Chi lo ha fatto Perché giustamente Chi ha la possibilità Di farlo Ha preso il biglietto Del treno E è andato È andato In Liguria A Genova A vedere Se Genova A Roma Per vedere Sto schifo Sto schifo Non lo so ragazzi Quest'anno Secondo me La Roma Questo Secondo me È l'andazzo Per fare il campionato Che ha fatto l'anno scorso Il Napoli Arrivi decimo Un campionato Quest'anno Altri che dicevano Eh ma la Roma Qua la Roma La Roma Qua la Roma La Roma Io sono pure Troppo buono In la prediction Se non sbaglio L'ho messo a sesta Ma quando c'è Ma manco sesta Arriviamo Arriviamo decimi Noni Toa di tanto Siamo in zona rossa Ragazzi vado a leggere La classifica La Roma è quindicesima È quindicesima Col Cagliari Che deve ancora giocare Il Como E il Venezia Hanno perso Per fortuna Cioè Noi io devo stare A guardare le squadre Per salvare Ma è normale Come cosa Che noi Chiamiamo Tre punti In quattro partite Comunque Quattro minuti di vita Ancora un po' Saludato Ciao ragazzi Bentornati in questo video Qui a Jabez Oggi siamo qui ragazzi Nuovi Siamo appunto Nel Jabez Commentare Che questo Questa disfatta Perché questa è una disfatta Ma te lo sei Cioè praticamente Te la sei disfatta da solo Perché il Genova Il Genova ci ha creduto Fino alla fine Ma tu hai mollato Tu hai mollato Lo stesso De Rossi Si è fatto Si è fatto Trascinare Dalle euforie Si è fatto Butta fuori Questa è proprio La ciliegina Sullo schifo Di stasera Tu prendi Colla Al novantasesimo Al novantasesimo E De Rossi Pochi minuti prima Si fa caccià Come un pollo Pure lui Come un pollo Siamo Un branco Dei polli De un pollame Penso che un pollame È meno stupido De noi Cioè veramente Non ho parole Oggi Oggi veramente Mi pulsa La vina qua Nel cervello Che non riesco a ragionare Non riesco a essere lucido Ragazzi Non riesco a essere lucido Non è possibile Non è possibile Che tu Ancora Non riesci a vincere Non riesci a vincere Ma poi Ma Sei solo 1 a 0 Ma chiudile la partita Chiudila Comunque Lasciate un mi piace Fatelo per pietà Fatelo per me Perché questi veramente Io Io che Li seguo Perché amo Amo la Roma E loro invece Che stanno lì E guadagnano i soldi Senza fa nulla Dovrebbero fa qualcosa in più A me non me pagano Per vedermi la Roma A me non me pagano Per vedermi la Roma Me la guardo perché La amo la Roma Non me paga nessuno Loro Loro che guadagnano i milioni Per fa questo Per vedere sto schifo Non vogliono L'amore dei tifosi Non so meriterebbero Non so meriterebbero E noi che facciamo sempre Tutto a sua rita Allo stadio Non se lo meriterebbero E zampate Nel deretano Se meriterebbero I calci in culo Proprio Pa Pa I calci in culo Le prenderei tutti quanti De Rossi compreso Che vede vuoti regà Ditemi la vostra Se Per chi l'ha vista Sta partita Diedemi che ne pensate voi Come vedete la situazione In casa Roma Regà È veramente un casino Io manderei tutti in ritiro Veramente Ma ritiro ai campi di forza I campi di forza Non a far ritiro così Proprio Proprio Veramente A sollevar i macini I macini I blocchetti di cemento Li manderei Tutti quanti A fare i muratori Li manderei Veramente Non so meritano proprio Guarda Ci hanno Tutti quei soldi Che guadagnano Non si meritano proprio L'amore nostro Non si meritano Noi lo facciamo per i colori Non per Sti 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 polli Comunque Vi preparo Analizzate velocemente La partita Se vi preparo Seguite i mesi social Live reaction Recuperatela Trovate Qui sopra le schede A fine video Bloccare nel primo commento Farò un'analisi veloce Perché già sono passati 7 minuti Non voglio fare Che questo video dura troppo La sblocca Praticamente Devinter Al Cioè Buonanotte Praticamente Fino alla prima mezz'ora Abbastanza sterile C'era stata qualche occasione Se lo sbaglio Forse un'occasione Ce l'aveva avuta Dobic Su un pallone di Dybala Che si divora proprio il gol Poi arriva il gol Del Mi ricordo se si ha divorato Ha tirato Ah no Ha tirato centrale E si è fatto Si è fatto parar Comunque pure oggi Gollini Veramente Ogni volta che vedei A Roma Diventa il fenomeno Un fenomeno Gollini Un fenomeno La sblocca Al 37esimo Goal di Artem Dobic Praticamente Su Su questo Quest'azione che poi Sono stati 10 minuti al VAR Perché c'è stato il cross Ed Angelinio Che c'era Mancini Che aveva disturbato Sabelli Sembrava che era fuori gioco Poi la recupera E Sharawi E il cross E mezzo Sulla respinta di Collini Arriva Dobic Con il tap in E il gol Del 1 a 0 Viene rivista al VAR Perché inizialmente Viene dato fuori gioco Perché Mancini Aveva Stava in fuori gioco Secondo l'arbitro Poi è stato rivista al VAR Giustamente Era tutto regolare E il gol è stato convalidato C'era Se non sbaglio Anche A inizio primo tempo C'era un Presunto rigore Che non è stato dato Non ho capito perché Un fallo Non mi ricordo Su chi era All'inizio del primo tempo Su Dybala Se non sbaglio Fallo su Dybala Non è stato dato Il calcio di rigore Però non mi attacco a queste cose Perché oggi Se hai buttato due punti È colpa tua Non è colpa del rigore Che non stanno Sì Dice il rigore Cambiava la partita Ma tu le partite Devi giude Le devi giude Se non dove vai Se non riesci a chiudere Una partita Contro un Genova Indebolito Rispetto allo scorso anno Se vede in campo Non stando c'è più Gudmundsson È proprio Completamente Un'altra squadra Completamente Un'altra squadra Però Loro hanno la fame Che tu non c'hai Tu non hai fame Devi avere fame Dei vittorie Ecco Pisilli Ci vorrebbero Undici Pisilli In campo Oggi Pisilli Migliore in campo In quello spezzone Di partita Che ho visto Di Pisilli È stato il migliore Secondo me Oggi il migliore In campo Pisilli Anche se non è Che ha fatto il fenomeno Però ci ha messo La grinta La voglia Cosa che In molti Dei nostri Non ho visto Comunque Primo tempo Finisce 1 a 0 Poi la Roma Inizia a giocare Bene nel secondo Tempo E poi nella fase Finale Si fa cacciare Il Genoa Giustamente Inizia a attaccare Se spinge Se sbilancia Perché ovviamente Dove recuperare Il risultato Si fa cacciare Sapendo che era Già munito De Rossi Se va ancora A lamentare All'arbi Al secondo uomo Non mi ricordo chi Si fa cacciare Si fa cacciare E poco dopo La Roma Prende il gol Al 96 L'ultima occasione C'era il fallo Di Pellegrini Che è stato fermo Un minuto a terra L'arbitro ha dato Ulteriori 40 secondi E quindi Ulteriori 40 secondi È arrivato proprio Il gol di Connie De Winter Proprio Che Indica Non lo so Penso che se ci metti Un cetriolo In mezzo al campo Difende meglio Di Indica Oggi è veramente Inguardabile Indica Ermoso Vabbè Era appena entrato Cioè Entrato Pure Ermoso Non mi è piaciuto Come Però Indica È stato oggi Forse il peggiore Forse Uno tra i peggiori In campo Veramente Imbarazzante Come lo stesso Pellegrini Che Io dico Ma Perché Ancora Pellegrini Porta la fascia De Capitano Io ancora Non lo concepisco Guarda Non lo concepisco Sempre Forza Roma Poi È finita così Regà Vado a leggere La classica Ma io Ve dico solo Che siamo Quindicesimi A tre punti E ve dico Che Il Cagliari Che è diciottesimo Ce ne ha due Ve dico solo questo Quest'anno Si lotta Per non retrocedere Sempre Comunque Forza Roma Avanti i colori E non i calciatori Ciao ragazzi Iscrivete Ciao